Buongiorno a Luigi Starace, che sei presentato come candidato a consigliere del regionale per il movimento civile. Un breve commento sulle regionali pubblicazioni? Sì, per i regionali noi siamo a livello regionale molto contenti, puntavamo al 20%, ci siamo andati molto vicini, probabilmente riusciremo a mettere 7 consiglieri in regione e per cui faremo un'opera di trasparenza e un'opera per tutta la Puglia. Naturalmente non sono onniscienti i consiglieri, per cui continueremo l'opera iniziata con i gruppi di lavoro, quindi con un programma analitico per la regione, continueremo ad approfondirlo dall'esterno, quindi noi come attivisti e loro dall'interno come gruppo consigliare. Sicuramente cercheremo di portare questa nostra